organizza un evento calabria sona nella tua piazza realizzeremo una vetrina con la migliore musica made in calabria entra a far parte del circuito che ti promuove in tv in radio sui giornali su internet e sui social chiama il numero 338 66 22 510 o scrivi a eventi chiocciolacalabriasona.it